Capito? Perché è un figlio di c***o che non ha le palle, capito? Non bisogna fare questo. E no, se è stato un uomo, l'ammazzo gli uomini, capito? Perché non deve fare queste cose. Ma io lo dico davanti a Leo, non è vero perché... Capisce? Non si fanno queste cose qua, basta! Quando si dice, uno dice, è stato espulso, bisogna dare una risposta. 200 croettino che non sei altro. Sì, sì, grazie. Ha fatto la cittadina. E fanno due aroro di leondine, di leondine, basta! E che c***o? Sono 26 anni che faccio questo, voglio fare un programma nuovo e roba i c***o. Semplici, le claquine, le claquine, capito? Questo, sono gente di m***a che si schiaffola e che dicono che non hanno le palle, capito? Io ti posso salutare? Sei una m***a, sei una m***a e vuoi fare incredibile. No, non faccio i c***o. Capito? Però tu non devi parlare di me. Tu parli mazza e parlassi per me di me. Il primo ti tiro. Io so che è una m***a perché lui aveva una promessa con me. Che non si sarebbe mai rivolto allo zoo e neanche a Mazzoli. Per nessun motivo che non abbia mai accettato neanche le provocazioni. Cosa che io oggi ho saputo che lui è un dirà. Non è vero. E' antinonda con Terenzi. No, non è vero. Ti do un c***o. Lui mi ha fatto il bidone ieri mentre mi ha chiamato Mazzoli e l'ha fatto parlare con me in onda. Perché sei un corno. Io ero in onda con te come si chiamava Mazzoli. Mazzoli è chiamato l'onda e Tocchi ha risposto. Stai. Stai. Sai cosa ha fatto oggi? Palmiere. Quando parlo io... Palmiere? Palmiere come si chiamano. Si sono fregati tutte le macchine 105. Sotto 105. Sono diventati tutti vivi. Però devono fare due ore al giorno di Leon di Lè. Due ore di trasmissione al giorno di Leon di Lè. Vado a posto con lui a fare un passare, due passare per non essere troppo giù. E niente. Facciamoci due ore al giorno. Questo gli do ragione. Perché comunque se lo zoo è chiuso con lui deve chiudere, no? Che lo usa le scenette. Dal 15 luglio non voglio fare più lo zoo. Quindi...